Progettare il futuro dando risposte alle esigenze del presente e alle ferite che lascia la pandemia. È il messaggio che il commissario europeo Paolo Gentiloni consegna al forum Sud e Nord, promosso da Fondazione Nitti e Associazione Merita. Senza una svolta al Sud, una vera svolta del Paese non è immaginabile. Oggi le risorse ci sono, dice Gentiloni, in un videomessaggio da Bruxelles, dove è impegnato nella valutazione dei piani nazionali di ripresa. Questo è il filo rosso che ha unito i tre giorni di dibattito su come spendere i 191,5 miliardi destinati all'Italia, di cui 70 in sussidi e 122 in prestiti. La partita del recovery è innanzitutto per chi è stato colpito dalla crisi e può essere vinta solo mettendo in campo progetti con tempi certi, dice Gentiloni. Gli fa eco il ministro dell'economia Daniele Franco, che però puntualizza. Un ritardo come quello accumulato al Sud non può essere riassorbito solo da un piano, per quanto ben congegnato, ma richiede una strategia che si espanda in un orizzonte temporale più lungo dei 5-6 anni del PNRR e che comprenda politiche pubbliche ordinarie. È il caso della sanità, dove bisogna recuperare in termini di digitalizzazione infrastrutture. Necessario anche un potenziamento dei servizi alla persona, come nel caso degli esili per l'infanzia. Ma come insegna la storia delle ricostruzioni al nostro paese dopo eventi avversi, massima attenzione va prestata alla gestione di ingenti flussi di denaro. Bisogna mobilitare le intelligenze migliori e soprattutto fare un argine contro la criminalità organizzata, che credo che sia il vero pericolo.